Latte crudo e caglio vegetale che si ricava dal fiore del cardone selvatico e del carciofo. Sono questi gli ingredienti del pecorino delle balze volterrane. Il pascolo è semiselvaggio, la zona di produzione è quella che va da Volterra per toccare anche pomarancio, Montecatini e Castelnuovo al di Cecina, oltre a Monteverdi Marittimo. Una produzione che racconta anche una storia di emigrazione, quella dei pastori sardi, che hanno scelto la Toscana come terra dove lavorare, vivere e produrre un formaggio eccezionale premiato in tutto il mondo. I miei territori sono sali, sono venuti 60 anni fa appunto dalla Sardegna con le pecore a seguito e in questo territorio abbiamo ritrovato delle origini, dei legami, non a caso anche gli etruschi manteremo dei legami importanti con la Sardegna, fatta di manufatti, di artigianalità e questo praticamente a distanza di millenni l'abbiamo fatto anche noi, portando la nostra conoscenza sulla lavorazione del latte, perché ormai si sa che per noi il fare il peccurino è il DNA, quindi però riprendendo un'antica ricetta che a noi era sconosciuta, quindi il latte cagliato con il presame, dice così questo presame, è praticamente il caglio che viene raccolto dai rifiori, dalle piante del calciofo selvatico che viene utilizzato per coagolare il latte. Una realtà quella del consorzio del pecorino delle balze volterrane che mette insieme circa 20 aziende tra produttori e trasformatori, come ha spiegato il direttore Giovanni Cannas, la vicepresidente della regione toscana Stefania Saccardi in visita nella sua azienda all'Ischeto. Questo poi è un prodotto a chilometri zero, tutto fatto e gestito nel territorio, quindi è un vero e proprio prodotto legato al territorio, quindi con pecore che sono tenute, gestite ed alimentate con prodotti del territorio, con un formaggio trasformato, direi davvero ancora con criteri di grande attenzione alla salubrità, alla genuinità. Questo è il modo, direi giusto, di fare agricoltura. L'Europa ci dice che oggi sempre di più l'agricoltura deve essere la zootecnia, quindi anche in questo caso deve essere compatibile con l'ambiente, deve essere rispettosa dell'ambiente, deve essere attenta all'economia circolare. e credo che qui si possa misurare un bel esempio di un'agricoltura di qualità, attenta al territorio, attenta però anche al valore dei prodotti, anche al loro impatto sulla salute delle persone. Stando ai numeri, la stima di produzione annuale di latte da parte delle aziende consorziate è di circa un milione di litri e la produzione potrebbe assestarsi indicativamente intorno ai 400 mila chili. Poi, al di là dei dati, c'è anche il ruolo che i produttori possono svolgere per la promozione territoriale e la conoscenza dei luoghi dove viene prodotto e trasformato il pecorino delle balze volterraneo e DOP, prodotto che racconta una terra, la sua gente, la sua storia, la biodiversità e la ricchezza naturale. Cerchiamo di fare sinergia con i nostri clienti, i nostri ristoratori, le nostre botteghe alimentari e cerchiamo di portare il turismo nel territorio, che tocchino con mano quelle che sono le nostre produzioni, quelle che sono le nostre fatiche per realizzare un chilo di pecorino delle balze e, perché no, conoscere la bellezza dell'Alta Val di Cecena. Quindi assaggiando anche i nostri piatti, visitando le nostre aziende agrituristiche e questo penso che sia il massimo. Quando si riesce a conoscere un prodotto attraverso il territorio, penso che sia un'esperienza unica. Grazie a tutti.